Di Sante, quali sono i motivi di questa manifestazione che si svolge tra l'altro in diverse piazze italiane? Dopo un anno dall'emergenza sanitaria nessun governo e nessuna regione ha fatto quello che bisognava fare per la scuola, ovvero ridurre il numero degli alunni per classe, avviare un piano straordinario di assunzione, stabilizzando i precari e tutto il personale necessario per la scuola, e ovviamente fare un grande investimento per gli spazi e per l'inizia scolastica. Se continua così, anche il prossimo anno avremo la DAD, perché il distanziamento sociale e la sicurezza a scuola si fa riducendo il numero degli alunni per classe, aumentando il personale scolastico e con un forte investimento sull'edilizia scolastica. I soldi ci sono, quelli della fiscalità generale, bisogna investire il 5% del PIL sulla scuola e ci sono i fondi del recovery plan. Che cosa chiediamo? Innanzitutto che questi investimenti che sono previsti per questo recovery fund vengano spesi in modo realmente per la scuola, e cioè innanzitutto è assolutamente necessario ridurre il numero degli alunni per classe a 15 e a massimo a 20 nel caso di un alunno diversamente abile. Questo naturalmente comporta per forza l'assunzione massiccia di insegnanti, di precari che da tanti anni aspettano anche di essere assunti e in terzo luogo massicci investimenti nell'edilizia scolastica. Non possiamo chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza se non abbiamo gli ambienti, gli spazi adatti. Non bastano i gel, non bastano le mascherine, abbiamo bisogno di ambienti spaziosi dove poter appunto ottenere i ragazzi in sicurezza. E comunque già da adesso le scuole sono state un luogo sicuro, assolutamente. Però oggi non è uno sciopero solo per rivendicare questi tre punti fondamentali, e proprio per fare un appello a tutta la cittadinanza, a tutti gli insegnanti, ai genitori, ai ragazzi, agli studenti che hanno aderito alla manifestazione e dovrebbero arrivare anche qui, è proprio quella di chiedere una scuola diversa, ma diversa anche da quella che era prima. Una scuola pubblica che veramente abbia da parte dello Stato, ripeto, questa attenzione. E attenzione vuol dire soldi, vuol dire investimenti. Ma secondo voi le scuole possono riaprire dopo Pasqua? Secondo noi le scuole riapriranno laddove ci sono le condizioni, non solo per la pandemia, non solo quindi per gli spazi. Se hanno gli spazi devono riaprire le scuole. Però, ripeto, non vogliamo focalizzare la nostra protesta di oggi solo su dad sì, dad no, riapertura sì, riapertura no. Qui ne va. Le scelte che verranno fatte adesso con i soldi, ripeto, in ballo. Andranno a indirizzare tutta la scuola del futuro per i prossimi 10-15 anni.